Pisa, alle 19 la partenza dei cortei di Mezzogiorno e Tramontana, che sfileranno sui lungarni compresi tra Ponte Solferino e Ponte della Fortezza. Alle 21 i combattimenti al carrello allestito su Ponte di Mezzo, per la 450esima edizione del Gioco del Ponte. La parte di Tramontana, che dal 2000 ad oggi ha lasciato agli avversari due edizioni soltanto, è chiamata a far fronte a una parte di Mezzogiorno sempre più aggurerrita. Nel 2017 uscita sconfitta dal Ponte alla, bella, più che altro per una strategia poco azzeccata. La scelta di quali squadre mandare di volta in volta sul Ponte è infatti fondamentale. In base alle forze di ciascuna dimostrata ai capitani in allenamento. Le squadre di Tramontana, in rappresentanza delle rispettive magistrature, sono Mattaccini, Satiri, Calci, San Francesco, San Michele e Santa Maria. Quelle di Mezzogiorno sono Delfini, Dragoni, Leoni, San Marco, San Martino e Sant'Antonio. Per una notte Pisa sarà divisa in due parti pronte a farsi la guerra ma il motto dice, vinca Borea o Mezzogiorno, sempre Pisa vincerà.